Bologna C'è una delle più grandi città d'Europa Gigantesche torri venivano continuamente rette dai nobili assetati di potere Tra tutte queste spiccava per la sua imponenza la torre dei Garisenda Una delle famiglie più importanti della città Per la loro immensa ricchezza e la loro bellissima figlia La ragazza aveva rapito il cuore di un giovane becchino soprannominato Asinelli Perché trainava il carro funebre al posto degli asini E forse un poco pure gli somigliava La famiglia Garisenda aveva promesso e sposa alla fanciulla Sola che fosse riuscito nell'impossibile impresa Di costruire una torre più alta della loro La famiglia è stata riuscito Non ce la farò mai a costruire quella dannata torre Ma che bella fossa Chi sei? Cosa vuoi da me? C'è una vecchia tomba senza nome Scava, giovane Asinelli Scava E troverai ciò che c'è Aspetta 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 Con tutto quel denaro si mise subito al lavoro. La torre sfiorava i 97 metri, ma nonostante questo, per qualche errore di calcolo non superava la garisenda. Oh no! Signore! Signore! E' qui? Potrei avere dell'altro denaro! A te non serve del denaro, a te serve una donna! Asinelli, inizialmente confuso, ascoltò attentamente la terribile proposta che gli venne fatta. La mano di garisenda in cambio della sua primogenita. L'accordo fu onorato la sera stessa, quando un fulmine si schiantò sulla garisenda, rendendo l'Asinelli, la torre più alta di Bologna. Vissero molti anni felici, tanto che il ricordo di quella lontana sera al cimitero fu quasi dimenticato. Purtroppo, però, dando alla luce la loro prima figlia, Garisenda morì. bravo, vedo che l'hai portata con te, ora dammela, dammi tua figlia. No, non puoi, ho appena perso mia moglie, non posso perdere anche la mia bambina. Che tristezza, Asinelli. Abbi pietà, ti supplico. Eh sia, te la lascerò, ma un giorno tornerò e nulla mi impedirà di avere tua figlia. No! Ahahahah! Ancora poco e tutto sarà finito! Oh no! No! Oh no! Ma che diavolo stai facendo, Asinelli? Dov'è la primogenita? Sì, sì, la chiamo! Tesoro! Vieni su, coraggio! Dai che c'è quella persona che ti dicevo! Non è te! Tesoro! È stato superbo! Quella brutta carica! Va, va, io ne lo faccio vedere! Prima un testo, e poi un sinistro! E poi il colpo fatale! E l'ho buttato giù dalla torre, sì! Tesoro! Dove sei? Tesoro! Do-do-dove sei? Ti stavo- Papà! Sono in cucina! Ciao papà! Vieni, Asinelli! Ti stavamo aspettando! Ti stavamo aspettando! E alla fine, sbeffeggiato dalla morte, non gli restò che una torre, la più alta della città. No! Beh, adesso che me lo chiedi, ti voglio dire un segreto! Sì! Sì! Oh, mi fai al rossire! E tu! Ehi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.